ciao benvenuti a tutti andiamo a vedere la settimana di lui e lei ti ricordo che lui o lei in oggetto non è detto che sia la persona a cui pensi tu o che spereresti di risentire tu magari le carte ti stanno parlando di un'altra persona quindi lascia la mente aperta e segui quello che loro ti diranno quello che accadrà può accadere anche con più di una persona naturalmente ok ma andiamo per gradi qui ti faccio vedere tutte le carte che io ho creato oltre naturalmente ai miei tarocchi se sei interessato o interessato ad uno di questi mazzi puoi chiedermi informazioni per mezzo email scrivendomi a le carte di penelope chiocciola gmail.com che lo ricordo è l'unico mio contatto se vedete altri indirizzi mail numeri di cellulare robe varie non sono io l'unico mio recapito per parlare con me è la mia mail le carte di penelope chiocciola gmail.com va bene detto questo partiamo andiamo subito a vedere di chi le carte ci parleranno questa settimana andiamo a vedere con le carte maschili andiamo a vedere chi è il lui in oggetto vediamo di chi ci parleranno le carte questa settimana chi è lui a qui ne ho chiappate due invece di una sola pensate aspetta che metto bene eccola qua allora il soggetto molto simile devo dire a differenza di altre volte che facevano vedere dei soggetti proprio diversi ma qui un guerriero qui addirittura c'è la sciabola nella cinta un coltello anelli quindi mi fa pensare ma guarda poi vediamo anche i segni zodiacali però me viene subito da pensare al segno del leone al segno del leone molto molto forte quindi un marte in leone un ascendente a leone insomma poi mi farete sapere voi allora questo un uomo potrebbe essere scuro di capelli visto che me lo fanno vedere scuro in entrambe le le fotografie a qui le mani in tasca e qui insomma sui fianchi quasi a sfida quindi un carattere bello tosto bello bello forte non per niente quindi fa pensare ad un ad un corsaro ad un pirata insomma con quel coltello magari pure un cacciatore anche se non lo penso comunque potrebbe una persona che potrebbe avere un lavoro d'ufficio vedi qui c'è un uomo tutto vestito di tutto punto insomma un uomo come molti altri va bene un carattere abbastanza schietto bello diretto perché in entrambe le foto ci sta guardando proprio dritto negli occhi non è che guarda a destra o sinistra o che si nasconda quest'uomo è questo un uomo abbastanza insomma schietto almeno con voi almeno durante la settimana perché di questo stiamo di questo stiamo parlando guarda anche qui mi esce di nuovo con lo sguardo bello dritto verso di noi quindi una persona che affronta diciamo così o sembrerebbe parrebbe affrontare quello che deve affrontare almeno con noi va bene io direi di andare a vedere la figura femminile chi è la donna di questa settimana vediamo un po chi è lei allora ma qui insomma una bella una bella signora una bella fifa sicuramente vedi come se volesse dire qualcosa magari proprio a questo lui come se volesse dirgli dimostrargli un qualche cosa ma si dovesse trattenere in un certo qual modo quindi magari a un qualcosa come si dice in corpo che vorrebbe tirar fuori ma ancora non attenta una signora insomma ad un certo tipo bella elegante insomma una donna anche come posso dire di una certa dignità ecco così la vedo questa figura guarda una donna sicuramente che sa quindi vien da pensare un po alla papessa dei tarocchi una donna particolare che sa estragnarsi dal mondo dal mondo esterno che tende diciamo così a vivere anche le sue cose interiormente dentro se andiamo a vedere chi è lei ok guarda com'è questa figura una donna molto colorata tanto è scura qui nel senso potrebbe avere dei pensieri o comunque essere una donna insomma che si sa trattenere che si sa comportare tanto è qui proprio leggera tanto è cupa stavo dicendo qui di spessore seria seriosa no vedi anche qua sembra quasi che che preghi che rimanga sopra alle situazioni tanto è colorata vivace e leggera nell'altra foto quindi una donna insomma colorata proprio con vari con vari colori varie sfaccettature caratteriali mi verrebbe da dire la prima cosa che mi viene da chiedere alle carte grazie agli oracoli e vedere un pochino che situazione c'è fra queste due persone da quale energia si parte diciamo così ok vediamo dunque con i miei oracoli qual è la situazione e cosa cosa accadrà poi con i carte messaggi cosa le due persone si diranno eccetera vediamo allora qui la prima carta c'è male direi subito la carta dell'amante direi abbastanza eloquente ora qui ci sta che effettivamente queste due persone ci sta che siano o che siano state veramente amanti no l'uno amante dell'altra amante proprio nel senso che hanno una fresca che hanno avuto una fresca un'altra azione l'uno verso l'altra vediamo vediamo ok la pausa vedi amante pausa già ci dicono e qui qualcosa o si è fermato o si fermerà andrà in pausa vediamo perché che succede fra lui e ok l'invito l'invito che comunque è vicino a questa pausa quindi attenzione andiamo a vedere le carte seguenti la forza e l'avversa a due sono addirittura la decisione e l'avversario allora qui sembrerebbe che o c'è stato semplicemente un litigio magari c'è stato un litigio un qualcosa un qualcosa che comunque ha ferito non so una parola detta male una parola un pochino acidina ok o da parte di lui o da parte di lei guarda e la partenza mi fanno vedere le carte quindi queste due persone potrebbero essere proprio lontane fisicamente quindi magari c'è semplicemente anche qualche chilometro in mezzo in mezzo a voi due questo è possibile io direi di vedere con i messaggi di lui e lei andiamo subito a vedere cosa queste due persone si vorrebbero dire o si diranno allora qui dicevamo c'è o c'è stato c'è o c'è stato a un pripro qua quindi un qualche parola che ha ferito l'uno dei due va bene o una decisione che ha ferito una dei due fatto sta che qui c'è un fermo la pausa insomma poi anche l'avversario voglio dire io qui c'è un qualcosa un'opposizione un programma un progetto un desiderio che ha trovato appunto un uno stop un un bastone fra fra le ruote però io credo che il rapporto fra queste due persone sia o sia stato quello di amanti quindi due persone che si desiderano si desideravano potrebbe essere un discorso fra due persone impegnate o una delle due impegnata e bla 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 ok andiamo a vedere le parole di lui verso di lei lui cosa vorrebbe dire alla donna vi dicevo come mi chiedete si è vero a volte può succedere che le parole si invertano ok che quello che io vedo come parole di lui siano effettivamente quello che lei vorrebbe dire e viceversa quelle di lei sono di lui non dovrebbe accadere ma a volte succede che le energie si invertano allora cosa vorrebbe dire aspetta mi sono volate tutte cosa vorrebbe dire vediamo lui verso di lei lui verso lei ok dammi un'altra possibilità abbiamo visto abbiamo detto no abbiamo visto che qui c'è o c'è stato un rapporto in pausa cioè qualcosa si è fermato si è arenato è successo un qualche cosa magari una parola che ha ferito un litigio ed in effetti qui da come parla lui sembra chiaro qui c'è quindi un lui un uomo che chiede un'altra possibilità alla donna cos'altro vedi dammi un'altra possibilità non mi capisci qui c'è un uomo che non si sente capito dalla donna per qualcosa andiamo a vedere cos'altro potrebbe dire lui a lei hai ragione insomma quindi qui c'è un uomo che effettivamente sta cercando di riportare il buon per la pace quindi proprio di fare pace di sistemare le cose sa di avere torto perché dà ragione dà ragione alla donna le dice hai ragione non mi capisci però hai ragione del tuo atteggiamento vediamo lei a questo punto lei quali sono i pensieri oi 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 qui mi si è piegata proprio la carta ti mangerei quindi qui c'è una donna che desidera questo uomo c'è un po' da fare quindi ti mangerei da quanto ti voglio capito questo è il discorso mi manchi mi manchi non ho mai provato prima ciò che provo per te ma mi hai ferito vedi guarda mi hai ferito non ti capisco non ti capisco mi hai ferito ma mi sento ancora tua quindi anche qui c'è una donna vedi mi manchi quindi qui in altre parole c'è un rapporto di amanti ok un rapporto di amanti nel senso insomma come vi ho detto come vi ho detto poc'anzi che hanno litigato comunque c'è stato uno screzzo c'è stato una ferita ad un qualche tipo però qui si cerca si cercherà io credo da parte di lui nei confronti di lei a riavvicinarsi qui c'è un tentativo di riavvicinamento ora però vedremo i tarocchi che cosa ci dicono cosa accadrà andiamo a vedere con le parole d'amore questi sono il volume 2 ma c'è sia il volume 1 che il volume 2 di queste carte andiamo a vedere un pochino che succede vediamo lui lui verso lei sento che ti stai pian piano allontanando da me quindi qui è veramente può essere lei che si sia bella decisa a non ascoltare più le sue ragioni a non volerne più sentire delle sue scuse o delle sue parole ma sia bella decisa a dire basta cioè io ti apisco mi sento ancora tua mi manchi non ho mai trovato nulla del genere ti desidero ancora però mi hai ferito questo è chiaro però dice anche vedi lui gli dice sento che ti stai pian piano allontanando da me ma io voglio lottare per questa relazione quindi nel senso io ti voglio ancora non ti lascia andare voglio vedere di recuperarlo questo rapporto anche perché hai ragione ad essere arrabbiata con me hai ragione ti ho ferito quindi c'è un uomo che sa di essere intorto sicuramente per favore non perdere tempo a preoccuparti per me cos'altro parole di lui verso di lei quindi i suoi pensieri ovviamente spero che le nostre strade si riuniranno un giorno quindi da questa pausa qui c'è un uomo che secondo me è o era l'amante in un certo senso di questa di questa donna spera di ritornare con lei vedi spero che le nostre strade si riuniranno un giorno qui c'è un uomo che si vuole avvicinare questo mi pare evidente che abbiate litigato e abbiate chiuso che ci sia stato qualche cosa qui è chiaro ok qui c'è un uomo che si vuole riavvicinare e da ragione alla donna quindi lui lo sa che la donna ragione glielo dico glielo dice sforzo la mente per non pensarti magna faccio cioè qui c'è un uomo che si vuole avvicinare andiamo a vedere a questo punto invece le parole di lei vediamo lei cosa vorrebbe dire a lui allora quali sono le parole di lei cosa le vorrebbe dire cosa vorrebbe dire lei a lui lei verso di lui allora queste sono le carte voglio semplicemente divertirmi con te ancora i miei sogni più belli sono quelli in cui ci sei tu quindi qui c'è una donna ancora coinvolta c'è poco da fare però qui leggo anche fra le righe c'è una donna che come se lo volesse convincere come dire guarda io semplicemente vorrei ancora stare bene con te non ti chiedo nulla più non ti preoccupare un po' quell'atteggiamento lì quindi fatemi sapere la tua anima è così bella è duro è dura essere onesta con me stessa vedi secondo me qui c'è una donna che vuol far passare il messaggio come dire guarda a me mi basta anche far l'amante non voglio nulla in più capito non ti preoccupare che invece non sia così ci divertiamo ecco questo è un rapporto di amanti secondo me un rapporto di amanti quindi o lui o lei sono impegnati oppure semplicemente o lui o lei non vogliono impegnarsi più di tanto in questa relazione però quello è vero è che qui c'è un lui un uomo che sicuramente ha tutta l'intenzione di riprendere questa frequentazione andiamo a vedere con i miei tarocchi cosa accadrà durante la settimana ok qui è volata subito prima ancora che partissi la regina di bastoni guarda com'è bella questa regina com'è bella questa donna ok cosa accadrà durante la settimana fra lui e lei il diavolo la regina di coppe l'appeso che è capovolto quindi torna bene o male dritto in piedi puretto cosa accadrà durante la settimana qui è volato il fante di bastoni con il 7 di con il 7 di bastoni ed è volato pure come parlano ste arte allora qui c'è durante la settimana il riparlare il risentire lo sblocco di una situazione guarda che cosa c'è nel taglio il 2 di coppe l'amore la coppia quindi qui c'è durante la settimana una persona e senz'altro si rifarà viva la situazione quindi ci chiariremo sbloccheremo una situazione ferma quindi vedete un pochino chi è di chi vi hanno parlato queste carte qui c'è una situazione un pochino nervosetta durante questa settimana fra queste due persone persone che secondo me hanno o avevano hanno avuto un rapporto di amanti diamanti troppo nel senso persone che si frequentavano e stavano insieme che erano magari legati a un'altra persona mentre si frequentavano e bla 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 insomma avete capito ok una situazione che magari c'è stato un piccolo screzzo un qualcosa non ci siamo capiti vedi perché lei gli dice io non ti capisco e lui le dice tu non mi capisci ed effettivamente glielo conferma quindi qui c'è un misunderstanding c'è un'incomprensione di fondo fra fra queste due persone però ecco ci può essere una situazione che è momentaneamente in pausa qui c'è un fermo quindi un fermo nel senso questo rapporto è stato interrotto o semplicemente non ci stiamo sentendo da qualche giorno voglio dire o comunque non ci stiamo vedendo ecco qui le carte parlano di un riavvicinamento nel senso qui c'è questa regina di bastoni e questo re di denari che sicuramente durante questa settimana da come ci parlano le carte si riavvicinano qui c'è proprio un parlare quindi un tentativo di riavvicinamento di capovolgere una situazione un pochino compromessa quindi diciamo proprio lo sblocco laddove c'è un fermo durante questa settimana si dovrebbe proprio si dovrebbe proprio sbloccare guarda come sono belle queste queste carte qui c'è proprio la comunicazione il parlare e sembrerebbe da parte di uno dei due come il voler convincere l'altro di un qualcosa boh non non lo so poi mi farete mi farete sapere va bene quindi una settimana diciamo no diciamo è proprio così di sblocco ci sono due persone che si mancano due persone che si pensano due persone che si desiderano ancora ma che però forse non si stanno quattro di bastoni non si stanno sentendo però qui fanno vedere pure che c'è durante questa settimana uno sblocco di una situazione è un rivedersi guarda quattro di bastoni matto quindi io vi confermo esatto il nome di bastoni vi confermo tutto ciò che vi ho che vi ho appena detto quindi fatemi sapere andiamo a vedere anche i segni zodiacali vediamo un po questi segni zodiacali fra lui e lei quali segni zodiacali vedete coinvolti fra questi due durante la settimana allora senz'altro il segno del segno del capricorno l'ariete segno dei gemelli ariete gemelli capricorno l'acquario scorpione segno dei pesci tiriamo un altro e segno della della vergine ok andiamo a vedere adesso con il nostro sacchettino magico ma qui giochiamo è come vi dico sempre andiamo a vedere qualche lettere qualche numero lettere numerini vediamo un pochino il nome di questa persona una data di nascita una targa un numero di telefono vediamo un pochino se riusciamo ad identificarlo ancora meglio allora andiamo a vedere qui ci sta che ci sia uno straniero in mezzo qui c'è la doppia x o comunque se non è il nome e cognome della persona potrebbe parlarmi appunto della targa di una macchina o di una moto è ovviamente quindi qui giochiamo vedete un po voi chi vi richiamano allora la doppia x poi c'è la z di zebra o di zagabria che dir si voglia la n di napoli la p la lettera p di palermo la e di empoli mettiamola qua che si veda poi che c'è la doppia m di milano o la w di Washington vedete un pochino voi come le volete leggere queste due letterine poi mi da soltanto tre numeri no quattro numeri a sto giro c'è il numero 0 il numero 0 il numero 3 8 0 3 8 è il numero 6 o 9 che dir si voglia vedete voi cosa ci volete leggere se sei o sei il 9 ok quindi diciamo una settimana di movimento un movimento anche abbastanza inaspettato qui c'è una telefonata quindi attenzione al cellulare attenzione al telefono perché secondo me qui c'è questa persona che si farà risentire ora a onor del vero devo dire ci sta anche sia la donna che si muove verso verso l'uomo e qui c'è uno dei due diciamo così che prenderà prenderà l'iniziativa fatto sta se qui avete questa persona con cui c'è questa situazione è rimasta un pochino sospeso un pochino così per aria sappiate che durante questa settimana pam si si sblocca l'appeso l'impiccato poverino da impiccato qual era se ne torna dritto quindi qui c'è un qualcosa che sia non lo dico per questo lo dico per tutto per farvi aprire non lo spiego perché per chi mi segue per motivi didattici o che ne so io come mi dite ok quindi qui vedo questo durante questa settimana ci può essere però un lui che si rifà vivo con lei ma anche una lei che si fa viva con lui dipende qui fanno vedere proprio tutte e due molto attivi perché tutte e due si cercano tutte e due si desiderano tutte e due si pensano e tutte e due hanno questo questa voglia capito questo pensiero l'uno verso l'uno verso l'altra quello che c'è di bello è che lui le dice lui sa da aver sbagliato perché gli dà ragione lui dà ragione alla donna quindi già hai ragione ecco ok quindi fatemi sapere mi mi raccomando perché mi appassiona pure a me un bacione e al prossimo video ciao ciao